Io quando ero commissario giusto parlavo di Elfio del 2050, non prima, però è... No, è anche la parola diesel, non è che è dal 2016 per via del diesel, adesso è talmente... Il problema è che gli ambientalisti prima avevano il diesel e adesso non lo vogliono più, quindi è tutto molto strumentale. Non voglio essere attivo, perché c'è sempre l'idea del polizist, però non vorrei che dietro certe scelte di fondamentalismo ambientalista ci siano anche interessi economici, che non sia tanto ideale, ma ci siano più interessi di amore per la natura, ma per l'amore delle tasche. Anche perché il produttore delle carrile automobilistiche americane non sta facendo i passi indietro. Io non escondo che si possa, se si dovesse arrivare ad un risultato diverso, che si dovesse essere una maggioranza diversa, io mi amo una maggioranza popolare, liberale, conservatore, però che abbiamo avuto nei cittadini, e anche il famoso target 2035 si potrebbe modificare, e forse la formazione dovrebbe anche spiegare meglio tutti i contenuti delle normative in materia di promozione di ambientalisti, cosa fa ancora molto la pubblicazione d'Europa e ancora delle città.